Iscar presenta un nuovo inserto monotagliente per troncature e scanalatura con un rivoluzionario metodo di fissaggio. La nuova linea di inserti Iscar Tag B è progettata per eseguire operazioni di torni e scanalatura pesante. I nuovi inserti Tag B sono disponibili nelle larghezze di 8, 10 e 12 mm a raggio pieno e con tagliente frontale piano con raggio di 0.8 mm. Gli inserti Tag B sono disponibili nei più avanzati gradi IC808 e IC8250 sumote. Sono caratterizzati dalla geometria di successo Y che è stata riprogettata per assicurare una performance ancora migliore. Gli inserti a raggio pieno da 12 mm sono disponibili con la geometria Y ed anche con un formatrucciolo H con fase negativa di rinforzo sul tagliente per tagli fortemente interrotti e parti in ghisa. La nuova famiglia include anche gli inserti da 8 mm a raggio pieno Tag BA8040 progettati per la lavorazione di alluminio e gli inserti Tag BA8040YZ per la lavorazione di alluminio duttile. Entrambi gli inserti sono disponibili nel grado IC07. Ecco qualche vantaggio del Tag B. L'esclusivo sistema di serraggio tangenziale assicura un'eccellente resistenza alle forze laterali. Il design molto robusto dell'inserto permette la tornitura laterale con elevati avanzamenti fino a 1.0 mm al giro. L'inserto Tag B è molto più resistente se confrontato con i tradizionali inserti ISO tondi RCMT che hanno lo stesso raggio. Come risultato è possibile lavorare con profondità di taglio molto elevate e ciò riduce drasticamente il tempo di ciclo. Con la nuova famiglia Iskar per troncatura Tank Grip potete facilmente aumentare la produttività e redditività delle vostre lavorazioni. Grazie. Grazie.